A profitto per passare la parola al nostro ultimo ospite che è Giulio Salvadori, direttore degli osservatori Internet of Things del Politecnico di Milano e che sono di fatto questi osservatori sono delle vere e proprie bibbie, cioè se noi vogliamo sapere che cosa succede in un determinato settore consultiamo tutti gli osservatori del Politecnico. Per cui benvenuto Giulio Salvadori, grazie per essere qui con noi. Il tema della Smart Home è emerso veramente in quasi tutti gli interventi, per cui diciamo che sicuramente è stato tra i più centrali e anche in prospettiva lo sarà credo sempre di più, quindi non è solo una questione di moda ma proprio anche di efficienza energetica. Quindi se tu sei d'accordo passerei la parola a te proprio per vedere la tua presentazione che so che è anche molto concreta, va molto anche nel dettaglio di diciamo anche i conti economici insomma che possiamo fare tutti noi nelle scelte determinanti di efficienza energetica e poi magari approfondiamo con alcune domande che stanno arrivando dal pubblico e anzi se ne avete altri nel frattempo approfittatene così diciamo avvieremo poi alla conclusione dei lavori. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Vedete la presentazione? Perfetta. Perfetto. Allora buon pomeriggio a tutti. Grazie intanto a Polidesign e a Residio per l'invito a questo interessante evento. Quindi appunto sì io faccio parte dell'osservatorio sull'internet of things, sull'internet degli oggetti attivo appunto al Politecnico di Milano e quello che facciamo all'interno dell'osservatorio è fare ricerca, fare ricerca un po' su tutta una serie di tematiche dell'internet of things che vanno diciamo sia in ambiti più consumer legati al consumatore, in altri più legati al mondo delle fabbriche, dell'industria e poi chiaramente affrontiamo anche il tema della pubblica amministrazione, del tema delle città e delle smart city, delle cosiddette città intelligenti. Oggi quello di cui vi parlo appunto per rimanere in target rispetto al tema dell'evento è un po' una panoramica che vi porto sul tema della, prima di tutto sul tema della smart home, quindi della casa intelligente, dei dispositivi connessi che abbiamo tutti noi sempre più all'interno delle nostre abitazioni e poi faremo un passaggio ovviamente sullo smart metering idrico, quindi sulla parte dei contatori idrici che sempre più potranno essere teleletti e telecontrollati da remoto. Prima di tutto giusto una brevissima panoramica, saprete, avrete tutti sentito parlare della smart home, ma di cosa stiamo parlando quando affrontiamo questa tematica? Parliamo in realtà di una serie di oggetti connessi all'interno dell'abitazione in grado di inviare dati sul loro funzionamento, sulle varie funzionalità che è possibile attivare da remoto tramite un'app, tramite la voce, ad esempio tramite un assistente vocale per avere, ottenere diciamo gli obiettivi in termini di risparmio energetico, in termini di comfort, di sicurezza dell'abitazione e delle persone al suo interno, quindi pensiamo a un termostato connesso che comunica magari con la caldaia per capire qual è la temperatura ideale da da impostare all'interno dell'abitazione, oppure dei sensori ad esempio che monitorano lo stato di salute di un anziano presente in casa per attivare magari un servizio di pronto intervento in caso di emergenza, quindi tutta una serie di dispositivi e servizi legati appunto al fatto che è possibile avere un controllo in tempo reale su ciò che avviene all'interno dell'abitazione. E il mondo, diciamo, l'ambito della smart home è un ambito molto dinamico che già avevamo visto in tutta la sua dinamicità negli scorsi anni e che diciamo chiaramente in 2020, contrassegnato dalla pandemia, come tutti sappiamo, ha visto alcuni trend ancora più, diciamo, accentuarsi nel tempo. Uno ad esempio è questo qui, la crescita della cultura digitale, chiaramente questo non ha impattato, ha influito solo in ambito della smart home, in tutti un po' gli ambiti legati al digitale, però chiaramente anche nel mondo della casa si è iniziato ad avere poi un consumatore più ricettivo rispetto a possibili servizi digitali da attivare grazie appunto agli oggetti connessi in casa. Qui ho riportato giusto alcuni dati in generale che sono inonimo di come sta evolvendo la cultura digitale degli italiani. Il 25% degli italiani ha eseguito più operazioni all'online banking nei mesi, diciamo, del lockdown del 2020. Oppure il 34% degli italiani ha ordinato la spesa online per la prima volta più spesso rispetto al 2019. Quindi tante tante attività online che chiaramente l'utente si è sempre più trovato a fare o per necessità o perché ha iniziato ad esplorare un po' diversi servizi del web. Un altro trend molto interessante, questo forse ancora più, diciamo, incisivo poi su quello che è, che sono le dinamiche della smart home è la riscoperta del valore della casa. È chiaro che lo stare tutti chiusi all'interno delle nostre abitazioni ha portato sicuramente molti italiani, molti consumatori a rivedere un po' magari anche l'elettromestici presente in casa, rivedere alcuni lavori di possibili ristrutturazioni da fare all'interno dell'abitazione. E questo lo abbiamo visto sia guardando alle indagini fatte da diversi enti, ad esempio questa, il 46% dichiara che sta già facendo o in mente di fare degli interventi sulla propria abitazione. Proprio perché appunto lo stare sempre in casa ha, diciamo, incentivato un po' lavori di questo tipo. Ma questo, diciamo, incide poi su tutte le aree della casa, ad esempio questa sulla cucina, il 43% degli italiani cucina con maggiore frequenza. Quindi anche qui poi il cucinare con maggiore frequenza ha portato a una sostituzione di diversi elettromestici, grandi o piccoli, per la cucina e quindi anche un acquisto di nuovi elettromestici spesso dotati di connettività e quindi dotati di tutto quell'elemento di, diciamo, intelligenza, tra virgolette, che li fa appartenere, diciamo, al mondo della smart home. E questo lo vediamo proprio, questo trend, proprio legandoci al concetto vero e proprio di smart home. Questo dato invece deriva dalla nostra indagine come osservatorio che abbiamo fatto in collaborazione con Doxa, di cui dopo vedremo un po' di risultati. L'indagine è stata fatta su mille consumatori italiani e qui vi anticipo il risultato, il 67% dei consumatori dichiara di utilizzare spesso le soluzioni acquistate. Ecco, l'utilizzo degli oggetti smart, degli oggetti connessi presenti all'interno della casa è uno degli elementi che sicuramente ha visto una crescita importante, trainata anche da questo stare sempre in casa e dell'accedere sempre più a servizi digitali. Vedete, l'utilizzo delle funzionalità smart è aumentato nel 19% dei casi e diminuito nel 13%, quindi c'è uno sbilanciamento della bilancia appunto a favore della parte positiva di questo trend. E poi in questo 2020 sicuramente c'è stata un ancora maggior focus, diciamo, proprio del mercato sulla parte di incentivi legati alla ristrutturazione, all'acquisto di diversi elettronomestici legati alle nostre abitazioni. Uno su tutti chiaramente è il super bonus, quello al 110%, di cui tutti sapete e conoscete i dettagli, ma in realtà quello che abbiamo visto è che questo super bonus 110%, che come sapete tutti non è applicabile per lavori che vengono fatti solamente all'interno delle abitazioni, questi possono essere trainati da lavori condominali, però in realtà come proprio comunicazione in termini anche se volete di marketing, di effetto train, questo super bonus ha fatto riscoprire un po' gli italiani tanti incentivi che erano già presenti, come l'eco bonus, come il bonus domotica e devo dire che le aziende ci hanno raccontato che molte nuove soluzioni sono state vendute anche grazie a questi incentivi che tra l'altro vedono spesso anche lo sconto in fattura come novità del 2020. Qui vedete rappresentato quindi il mercato della smart home, tra il 2016 e il 2019, vedete che è un mercato molto dinamico come vi dicevo prima, cioè stiamo parlando di un mercato che cresce a tassi veramente importanti, più 35, più 52, più 40% di anno in anno, i tassi di crescita molto importanti e che hanno visto appunto in un anno comunque caratterizzato dalla pandemia, comunque caratterizzato da fenomeni negativi chiaramente legati al budget di investimento di tante famiglie che hanno influito all'interno di questi 12 mesi del 2020 ma che abbinati a quei fattori diciamo più positivi di cui vi ho parlato hanno fatto sì che il mercato diciamo comunque tenesse botta potremmo dire comunque un mercato nel 2020 supera il mezzo miliardo di euro, 505 milioni di euro e che decresce diciamo solo del 5% rispetto al 2019. Questo è un mercato tra l'altro dove l'Italia diciamo performa piuttosto bene anche se anche qui potrebbe potrebbe fare meglio, vedete qui sono riportati i dati dei nostri cugini tedeschi, UK, Francia, Spagna e vedete che Francia e Spagna più o meno si attestano su un mercato diciamo di stagnazione quindi che più o meno non cresce ne decresce un po' simile a quello a quello italiano mentre Germania e UK fanno vedere ad esempio numeri più interessanti dal punto di vista della crescita. Ecco come come possiamo analizzare questo mercato? Lo possiamo analizzare solo guardando a quello che è stato poi l'andamento del mercato all'interno dei vari mesi e l'anno. Come potete immaginare nei primi due mesi del 2020 c'è stata una forte crescita invece rispetto al 2019. Molte aziende invece ci parlavano di possibile boom del mercato della smart home eh del corso del 2020. Poi chiaramente è arrivato è arrivato il covid, è arrivato il periodo di lockdown, quello duro, dove abbiamo assistito a tassi di decrescita dei fatturati e le aziende in ambito smart home da almeno 60 almeno 100% rispetto al 2019 e poi pian piano però eh la il mercato diciamo a le aziende hanno recuperato e quasi appunto sono riusciti a recuperare il gap che si era creato nei mesi del lockdown grazie anche appunto agli ai trend che che abbiamo che abbiamo osservato prima. È chiaro che questo non vale per tutti le soluzioni legate alla smart home ad esempio pensiamo alla sicurezza. Sicurezza è un ambito che stando tutti sempre perennemente in casa è un ambito meno sentito rispetto ad altri perché già siamo noi in casa ci sentiamo già abbastanza sicuri non abbiamo bisogno di soluzioni smart diciamo per per la parte di sicurezza di telecamere o quant'altro. Mentre ad esempio la parte di elettromestici, termostati, purificatori d'aria soprattutto eh ha sentito maggiormente della ripresa poi del mercato dopo dopo la parte di lockdown. Chiaramente l'online ha performato molto bene mentre magari canali di vendita legati più alla al contatto con il cliente hanno performato un po' un po' meno bene. Ecco al di là poi del covid dell'impatto che c'è stato legato all'emergenza sanitaria qui abbiamo descritto anche un po' quelli che sono stati trend a livello proprio di offerta di cosa vediamo all'interno di questo di questo mercato come sta evolvendo l'offerta di prodotti e servizi. Da un lato vediamo un mercato che si allarga sempre di più cioè ci sono sempre più nuovi attori nuovi entranti che eh iniziano a giocare la loro partita in questo mercato e nuovi attori, nuovi player che magari fino a sei mesi fa, un anno fa erano molto molto distanti da un mercato come questo. Pensiamo ad esempio qui abbiamo alcune partnership a cui abbiamo dato evidenza, il mondo delle agenzie immobiliari, del real estate dove appunto come la partnership tra gabbetti e residio dove si inizia un po' a esplorare questo mondo della della smart home chiaramente potrebbe un domani impattare notevolmente sulle sulle vendite, sul sull'interesse dei consumatori. Il mondo dei produttori auto che sempre più integra la propria eh propria vettura con le funzionalità della casa, quindi la possibilità di accendere magari spegnere l'area condizionata in auto direttamente alla propria abitazione e viceversa. Oppure il mondo dei produttori dei mobili, ad esempio Scavolini che ha lanciato una prima linea modello di cucine connesse, integrate anche con Alexa, quindi con la possibilità di interfaccia vocale con queste con questi mobili ed elettromestici, oppure anche il mondo della GDO con l'IDOL. Quindi tanti tanti attori che entrano in questo mercato è un'offerta che non si compone più diciamo solo di prodotti, solo della componente hardware, ma anche sempre più di servizi nuovi che magari prevedono anche un piano di pagamento diverso, quindi una fee mensile o annuale e soprattutto prevedono un ingaggio diciamo più diciamo a lungo termine con il con il consumatore, quindi ad esempio un servizio di diciamo pronto intervento in caso di eventuale avvento avverso in casa, un furto, un tattivo di furto, un un anziano appunto che si sente male all'interno dell'abitazione, un servizio di manutenzione di una caldaia ad esempio, di un elettromestico, di manutenzione predittiva magari anche con la possibilità di prevenire il guasto prima che si che si verifichi, quindi sempre più un mercato che si compone di tanti tanti nuovi servizi. E vi dicevo appunto abbiamo fatto anche un'indagine su mille consumatori per capire un po' il punto di vista dell'utente finale rispetto a questi prodotti e servizi. Vediamo intanto un primo dato legato alla conoscenza molto interessante. Abbiamo chiesto hai mai sentito parlare di smart home prima d'ora? Nel 2017 questa percentuale di chi ha sentito parlare di smart home era pari al 55%. Ogni anno noi replichiamo questa indagine, nel 2018 era pari al 59%, poi è cresciuta fino al 68% del 2019 e al 69% del 2020, quindi in crescita del 14% praticamente in tre anni. In tre anni la percentuale è notevolmente cresciuta e quindi questo è sicuramente un fattore molto positivo che fa sì che poi il mercato si alimenti anche grazie a un passaparola, a una maggiore conoscenza tra i vari consumatori italiani. Vedete qua una rappresentazione di questa conoscenza, i più giovani, 18-34 anni e coloro che sono più vicini diciamo alle tecnologie, i cosiddetti tech advanced, coloro che hanno più manualità con la parte tecnologica, beh mostrano trend di livelli di conoscenza molto molto più elevati rispetto alla media, 82-89% addirittura. E poi qui vedete un po' rappresentato quello a cui accennavo prima, un po' gli effetti potremmo dire della pandemia. Abbiamo chiesto ma quali sono i motivi alla base e l'acquisto di questi oggetti smart. Vedete che in blu sono riportati i motivi del 2019, in azzurro i motivi del 2020 e vedete che la sicurezza perde diciamo dei punti percentuali proprio perché è meno sentita, è stata meno sentita nel corso del 2020, la comodità più o meno rimane stabile, il controllo dei consumi energetici invece è molto molto importante per il consumatore al 6-14%, la fruibilità, la facilità d'uso, ecco l'interfaccia ad esempio con cui si gestiscono questi prodotti, la facilità d'uso di una app, di un'interfaccia vocale è sempre più importante quando si sceglie cosa acquistare. E poi ultimo dato che vi pongo sul consumatore, quello legato ai servizi. Il consumatore è sempre più interessato anche a questi servizi aggiuntivi, 62% degli utenti dichiara di essere interessato, di cui il 33%, quindi uno su tre, è disposto addirittura a pagare di più per attivare questi servizi. Quali servizi? Sì principalmente una consulenza medica da remoto, ad esempio, un'analisi dei consumi energetici in casa, un servizio di assistenza e manutenzione, insomma quello di cui vi ho accenato prima, su cui chiaramente anche l'offerta si sta muovendo. Bene, questo è un po' un quadro che volevo fare sulla parte casa, diciamo, più in senso ampio sulla smart home, avviciniamoci al mondo più dell'acqua e in questo caso dei contatori idrici dello smart metering, appunto idrico, oggetto appunto di un'ulteriore analisi che abbiamo fatto all'interno dell'osservatorio. Il mondo, diciamo, dello smart metering idrico è un mondo che oggi non vede ancora grande diffusione come invece per la smart home all'interno del territorio italiano. Oggi abbiamo ancora contatori idrici a livello condominiale o di singole abitazioni e solo, diciamo, recentemente si iniziano a vedere dei primi bandi proprio dedicati alla telettura dei contatori idrici a livello, cioè la possibilità che quel contatore da non connesso diventi connesso e ability, tutta una possibilità di invio dei dati legati al consumo dell'acqua, legati alla possibilità appunto poi di ricevere anche dei feedback sulla base di quel consumo per capire come e dove risparmiare. E quindi questo ha fatto sì che sono nati, diciamo, i primi piani da parte delle utility di, diciamo, installazione di contatori idrici smart nei prossimi anni. Vedete qui, Bianza Acqua, Acqua d'Ottopugliese, 160 mila, un milione di contatori idrici smart nei prossimi 8-10 anni. Sono solo due esempi appunto che vi riporto. Quindi, diciamo, è un mercato che è in divenire, probabilmente di cui vedremo gli effetti nei prossimi anni. E' un mercato oggi sicuramente guidato prevalentemente dalla normativa. Oggi abbiamo comunque un mondo, quello dello smart meter idrico, che permette alle aziende che presentano piani di questo tipo, alle utility, di ottenere da un lato dei punteggi premianti nelle valutazioni dei bandi di gara, cioè la possibilità di avere, diciamo, delle assegnazioni di punteggi in più quando poi partecipano a bandi di gara che prevedono appunto l'installazione di centinaia di miliardi, milioni di contatori idrici. E poi l'allungamento, anche il periodo disponibile per la sostituzione dell'attuale parco contatori. Cioè la possibilità di avere, di prevedere dei contatori nuovi smart che vadano in sostituzione di quelli attuali può, diciamo, avvenire in un periodo di tempo più lungo se appunto si installano nuovi contatori smart. In un periodo di tempo più breve se invece si installano nuovi contatori ma non connessi. E questo chiaramente ha un impatto diretto sul ritorno economico poi dell'investimento perché chiaramente una possibilità di allungare i tempi di sostituzione permette di avere meno costi di gestione poi di installazione per l'impresa. Ecco, alla luce di questo, alla luce di un ambito guidato principalmente dalla normativa, quello che abbiamo invece voluto fare come osservatorio è stato quello di provare a indagare quelle che possono essere le opportunità offerte appunto dall'installazione di contatori smart nel settore idrico in termini di costi, di risparmio, diciamo di costi, risparmio di acqua e risparmio di energia. Cioè abbiamo voluto provare a quantificare quelli che possono essere i benefici ottenibili da applicazioni, soluzioni di questo tipo che appunto nei prossimi anni vedranno sempre più la luce anche sul nostro territorio. Quello che abbiamo fatto quindi prima di tutto è andare a identificare i benefici ottenibili da contatori idrici smart. Qui sono riportati diversi benefici che abbiamo individuato, ve li racconto alcuni, ad esempio la parte di lettura del contatore è uno dei benefici più importanti. Perché? Perché chiaramente oggi un operatore deve andare a leggere il dato sulla lettura appunto del contatore andando fisicamente all'interno di un condominio, all'interno di una abitazione. Un domani appunto con la possibilità di avere questi contatori idrici connessi, sarà possibile effettuare una lettatura del contatore da remoto, addirittura quindi l'operatore non dovrà neanche spostarsi, sarà necessario solo che un gateway, un concentratore, raccolga i dati di più contatori della zona in maniera automatica e gli invii in maniera sempre automatica a un centro di controllo, a una utility che poi può elaborarli. Oppure modalità walk-by, che è una via di mezzo diciamo all'operatore, che può leggere il dato di lettura avvicinarsi, avvicinandosi diciamo, quindi mettendosi in prossimità dell'abitazione o del condominio. E quindi comunque evitando anche in questo caso il tempo necessario per entrare all'interno dello stabile. Oppure ad esempio un altro beneficio riguarda l'efficienza nella manutenzione. Ad esempio pensate alla possibilità di intervenire subito prontamente in caso di rottura, di un guasto, di una perdita e quindi evitare lo spreco d'acqua perché io, grazie al fatto che ho un contatore connesso, posso accorgermi subito che c'è un problema ma non dopo diverse ore, diversi giorni. Oppure la possibilità di prevedere una possibile guasto con algoritmi di machine learning, di intelligenza artificiale per evitare poi che il contatore arrivi a rottura, ma intervenire prima. E poi vedete altri benefici che abbiamo qui inserito. Dall'altra parte abbiamo classificato ovviamente anche i costi, costi OPEX, quindi di gestione di operativi, gestione della rete, gestione dei dati, chiaramente questi contatori saranno in grado di inviare. CAPEX legato alla gestione di investimento, l'acquisto dei contatori, chiaramente vanno acquistati, vanno installati, vanno integrati i dati dei contatori con il sistema poi già presente in azienda, i gestionali già presenti all'interno dell'azienda e va formato il personale perché spesso si tratta di un'attività anche nuova e diversa rispetto alla precedente. Qui abbiamo ipotizzato alcune, diciamo, abbiamo inserito alcune ipotesi alla base del modello, lo scenario è quello italiano, ci sono due scenari di rollout, di installazione dei contatori, uno da 50.000 contatori installati, uno da 160.000, due modalità di lettura, l'abbiamo parlato prima, walk by e da remoto, e abbiamo considerato i costi differenziali, cioè il costo differenziale tra il contatore tradizionale e quello smart, perché abbiamo pensato che comunque la utility dovrà sostituire, dopo 10-12 anni, interlegge, il contatore è vecchio e quindi abbiamo ipotizzato, considerato il delta costo tra tradizionale e smart, proprio per raffrontarlo poi con i benefici ottenibili. Questi sono i principali risultati, quindi vedete sulla sinistra il net present value a 5 anni, vedete nel caso average, quindi nel caso medio, nel caso base, troviamo un po' un net present value che va dai 3,4 milioni di euro ai 16,1 milioni, perché questa differenza? Perché chiaramente le economie di scala giocano un peso importante, nei due scenari 50.000 e 160.000 contatori, è possibile ottenere maggiori benefici in uno scenario con più contatori, e poi chiaramente abbiamo due scenari, uno pessimistico, uno ottimistico, cosa varia all'interno di quei due scenari? Varia principalmente la tariffa dell'acqua, che può variare ovviamente nel tempo, e la modalità di lettura, quello di cui parlavo prima, work by o da remoto. Vedete poi il payback time, quindi il ritorno economico all'investimento, che si aggira dai 4 ai 5 anni, nel caso medio. Quindi comunque il ritorno economico all'investimento non, diciamo, in tempi brevissimi, ma che dobbiamo ricordarci si va ad aggiungere rispetto ai benefici legati agli incentivi normativi di cui avevo parlato prima, e quindi la possibilità di sostituire con un tempo più lungo i contatori e la possibilità di ricevere incentivi, sistemi premianti all'interno dei bandi di gara. Sono dei benefici, diciamo, che si avrebbero in più. E oltre a questi, introdotto, c'è anche un beneficio, anzi, due benefici, legati proprio alla comunità, in generale ai cittadini. Qui potremmo avere, appunto, nei casi considerati, un risparmio d'acqua che va da 900.000 a 3,4 milioni di metri cubi all'anno, e un risparmio in termini di componente energetica dai 13.000 ai 44.000 kilowattori all'anno, solo nei due casi considerati. Pensate quanto, quanti milioni di metri cubi d'acqua e kilowattori si potrebbero risparmiare andando a sostituire tutto il parco di contatori idrici in Italia. Questi sono solo due casi con, diciamo, pochi contatori rispetto al totale del parco installato. Questo per dire, appunto, che ci sono anche altri benefici che vanno considerati. E poi, oltre a questo, e arrivo a chiusura, è chiaro che un domani poter avere i contatori idrici connessi non sarebbe solo il primo passo, perché, appunto, e qui ritorno alla prima parte della mia presentazione, quando ho parlato di tutto il mercato e il mondo, diciamo, in evoluzione della smart home, perché chiaramente il contatore idrico connesso, la gestione dell'acqua da remoto potrebbe essere solo una delle informazioni in più che l'utente potrebbe avere all'interno della sua casa smart, per poter gestire tutto in maniera integrata e ricevere avvisi, feedback, in caso, ovviamente, di sprechi d'acqua evitabili, in caso di superamento di alcune soglie legate a possibili guasti o di questo tipo. Quindi, diciamo, un beneficio che qui abbiamo visto dal punto di vista delle aziende, ma che potrebbe essere poi molto rilevante anche per il cittadino e il consumatore. Quindi, normative e benefici che guidano un po' questo mercato, un mercato che, come vi dicevo, vedrà, soprattutto nei prossimi anni, grande, grande sviluppo dal punto di vista della sostituzione di contatori con altri intelligenti. Bene, qui io concludo e vi ringrazio per l'attenzione, sono a disposizione, ovviamente, per delle domande. Grazie mille, professor Salvadori. E sì, ci sono delle domande. Una arriva da Dario Di Gregorio, che chiede, l'aspetto normativo rimane ad oggi il motore della domotica domestica in ambito di comfort, oppure è aumentata la sensibilità da parte degli utilizzatori anche al di fuori degli incentivi? Come dire, senza ecobonus investiremo lo stesso, oppure no? Beh, allora, rispondo distinguendo la smart home in due. È chiaro che la smart home, quella più legata alla parte di efficienza energetica, per forza di cose risente ancora tantissimo degli incentivi. Pensiamo alla sostituzione di una caldaia con una caldaia smart. Sarà il fatto di avere una nuova caldaia smart o il fatto di avere accesso agli incentivi, di avere comunque una caldaia nuova? Beh, probabilmente siamo ancora nella seconda parte. Perché è chiaro che quegli incentivi sono molto, fanno gola, fanno gola a tante, a tutti, e quindi è normale che sia così. Se guardiamo invece al mondo, ad esempio, della sicurezza, guardiamo al mondo del comfort, riguardiamo il mondo dei vari scenari d'uso che si possono creare, di una smart home completamente, diciamo, integrata, beh, lì gli incentivi vengono meno, sicuramente, quindi la fa da padrone è il fatto che l'utente vuole assolutamente sempre più soluzioni di questo tipo. Certo, ecco, e tra l'altro sempre lo stesso utente chiede se secondo lei ci si aspetta di avere tutte queste funzionalità in unica app, oppure continueremo a averne, credo, decine, se ho interpretato bene la domanda, perché adesso ognuno fa la propria app, in effetti, quindi in un'attica di integrazione smart home, eccetera, eccetera, probabilmente sarebbe molto più utile riuscire in qualche modo a racchiudere e avere un'unica interfaccia, o quantomeno snellire almeno questo tipo di processo. La domanda è giustissima, per motivi di tempo non l'ho inserita come slide, ma oggi il tema dell'intoperabilità, il tema del non avere comunque tutto in un'unica app, in un'unica interfaccia, è il grande, grandissimo tallone da kill della smart home. Se oggi dobbiamo trovare una barriera che ancora limita il mercato, bene, quella barriera è quella pronunciata nella domanda e che tra l'altro anche in ottica, no, di integrazione possibile, futura, con lo smart meter idrico, crea dei problemi se non si riuscirà a superarla, perché a quel punto neanche la componente, ad esempio legata all'acqua, potrà essere integrata, perché la smart home stessa non sarà integrata. Quindi diciamo, se andiamo oggi a livello di singolo brand, stanno nascendo delle app tramite cui l'utente gestisce tutti i prodotti di quel brand, ma appena cambiamo brand, sono poche le collaborazioni. Qualcuna ne abbiamo vista, ci sono partnership di 5-6 aziende che hanno dato vita a un ecosistema comune, però è chiaro che il consumatore deve comunque acquistare prodotti legati a quelle 5-6 aziende per poterli gestire tutti insieme. Se va fuori da quel perimetro, già si trova in difficoltà. Quindi questo è il grande tallone da chi. Certo, quindi anche questa è un'altra sfida che però necessariamente credo dovremmo affrontare. Però abbiamo visto anche nei suoi esempi alcune partnership assolutamente inedite e anche impensabili fino a pochi anni fa, addirittura forse addirittura pochi mesi fa. Quindi effettivamente forse c'è proprio questa voglia di appunto mettersi insieme, fare sistema e quindi anche al servizio del singolo cittadino, per cui anche questo può essere sicuramente uno stimolo importante. Tra l'altro appunto si è parlato durante tutta la giornata del ruolo degli incentivi, quindi del legislatore che è entrato sicuramente pesantemente in questo settore, ma dal mio punto di vista ben venga, meno male che l'abbia fatto. E tra l'altro è stato il primo settore a essere così incentivato, perché tra l'altro recentemente parlando anche con Confindustria Digitale, per esempio stanno guardando proprio a quello che è stato fatto nel settore edile con appunto l'eco bonus e tutto il resto, perché non c'è solo l'eco bonus, diciamo che l'eco bonus è un po' la bandiera per riuscire ad avere un sistema di incentivazioni simili per la digitalizzazione, che è un altro grande pilastro, insomma un'altra grande sfida, anche in termini di recovery fund, eccetera, eccetera. Tra l'altro è abbastanza opinione comune che questi incentivi diventeranno strutturali, ma proprio grazie ai fondi del recovery fund, per cui insomma ben venga, è sicuramente un'ottima notizia per tutti noi, vista la retrattezza di cui parlavamo anche poco fa con appena un per cento degli edifici che riescono ad essere efficientati in maniera corretta allo stato attuale. Ecco, quindi benissimo, io... Grazie a tutti.